Beatrice Valli è in dolce attesa. L'ex corteggiatrice di uomini e donne aspetta una bambina dal compagno Marco Fantini. La coppia ha già svelato il nome della piccola. Si chiamerà Bianca. Dopo un breve periodo lontani, Marco e Beatrice sono tornati a essere inseparabili. Anche in gravidanza, però, la Valli si ritrova costretta a replicare le accuse sui social. In questi giorni, alla vista di alcune sue foto, diversi internauti si sono scagliati contro di lei, accusandola di aver rifatto le labbra. Beatrice ha replicato prima su Instagram stories, mostrando degli scatti risalenti alla sua adolescenza, che dimostrano che le labbra sono sempre state le stesse. Per chi dice che ho le labbra rifatte? 17 avevo qui. Labbra rifatte? Voi siete tutti scemi. Guardate le date di qualche foto. A 17 anni, io mi facevo già punture quindi? Le labbra sono uguali. La verità brucia. Metto l'ultima perché poi mi metto a ridere. Le pagine che dicono che mi sono punturata le labbra possono anche abbattersi. Pompatevi il cervello. Dato che gli attacchi continuavano, ha replicato anche singolarmente ad alcuni utenti. Tu ti sei fumata il cervello. In gravidanza non credo ti facciano gonfiare le labbra. Io a volte rimango all'invita. Infine, ha concluso. Per me sono tutte cose inutili ed è ancora più inutile farle in gravidanza. Sono comunque sostanze che entrano nel corpo e possono fare male al bambino. Fammo già male a noi, figuriamoci quando sei incinta. Per me chi fa certe cose, soprattutto in gravidanza, è pazza. Io credo che un difetto brutto è giusto modificarlo, ma quando ti gonfi la faccia diventa brutto e volgare. Chi se ne frega.